Un 49enne operatore per conto di una cooperativa locale impegnato in un progetto Sprara a Condofuri in provincia di Reggio Calabria è stato arrestato dai carabinieri per tentata violenza sessuale, tentata concussione e violenza privata nei confronti di alcuni giovani ospiti del progetto. Le indagini dei carabinieri sono scattate dalla denuncia delle vittime che riguarderebbero fatti avvenuti dagli scorsi mesi di febbraio e marzo. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tropea hanno arrestato un uomo, Francesco Messina, 27 anni, già noto alle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto a Vibo Valencia, in via Parri. A casa dell'arrestato sono stati rinvenuti un bilagino di precisione, sei dosi di marijuana e del peso complessivo di 40 grammi circa, una dose di hashish, varie buste in plastica utilizzate per l'eventuale confezionamento della droga, banconote di vario taglio per un totale di 165 euro. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di sostanza stupefacente tradotto ai domiciliari. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per detenzione illegale di ordigni esplosivi. Si tratta di Consolato Andarivieni, di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nell'ovile di sua proprietà sono stati ritrovati due ordigne esplosivi dotati di miccia, contenenti complessivamente 910 grammi di glicerina, oltre a 23 cartucce per fucile calibro 20 e 25 proiettili calibro 6 e 35. Loredana colloca per l'AC News 24. Loredana colloca per l'AC News 24. Grazie a tutti.